Si dispone la barriera, sono due in barriera, sono Rigoni e Parola. Destro lungo di Chiappara per la testa e rete, rete di Centurioni. Destra si accentra ora, attenzione errore clamoroso di Gillet e palla infilata da pochi passi a porta vuota da parte di Moscardelli. Invece centrali, Ganci e Varricchio si avvicinano molto l'un l'altra per cercare di dar fastidio ai centrali difensivi della Triestina. Colpo di testa di Ganci, gol!